Ben trovati con le news di sport di ATV Mark edizione del venerdì nella quale andiamo a presentare quello che ci attende in questo fine settimana. Intanto ripartiamo dalla Serie B e dall'Ascoli che affronta il Catanzaro per invertire la rotta, tornare a fare punti, per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Oggi penultima alla formazione di Castori che così ha parlato alla vigilia della sfida di domani. Porta Nassaro è l'autentica sorpresa di questo campionato, sta facendo delle cose straordinarie in una posizione crescita che può puntare alla promozione di Lecce che magari nessuno in inizio stasione l'avrebbe predesso. I complimenti a Bivarini perché sta facendo un lavoro straordinario, la squadra che ho provveduto gioca anche molto bene, quindi è l'avversario sicuramente del quale dobbiamo nutrire molto rispetto. La settimana abbiamo vissuto analizzando le cose che ci sono mancate nell'ultima partita contro Spezia e sulle quali dobbiamo migliorare e crescere. Intanto sull'attenzione, per me stanno che poi anche il lavoro portano a una maggiore e migliore condizione, però anche l'attenzione e il modo di stare in campo cercando di essere più presenti in tutte le situazioni deve essere comunque corretto e migliorato. Perché le vittorie arriveranno solo se noi facciamo dei passi in avanti sotto tutti i punti di vista, non solo quello tecnico-dattico o fisico, ma anche quello del modo come siamo in campo a livello di concernazione. Quindi abbiamo cercato di capire che questo è un passo fondamentale per noi che dobbiamo compiere perché la Clos City è ora che noi riusciamo a muoverla in maniera anche importante. Non cercare alibi, dobbiamo essere molto ridici con noi stessi, capire dove dobbiamo e possiamo migliorare. Perché comunque questa è una partita che se facciamo in maniera è meritata, però se ci mettiamo a fare delle considerazioni dure fatalistiche non troviamo mai il bandaro. Invece dobbiamo essere consapevoli e così che dobbiamo assolutamente, come ho detto prima, migliorare anche l'aspetto della concentrazione della selezione in campo perché va bene il ritmo che è cresciuto, la condizione è cresciuta, il modo di giocare e tutto, però dobbiamo andare a analizzare anche i dettagli perché assolutamente così non va bene, cioè dobbiamo fare il risultato, il risultato basso appunto attraverso il miglioramento di tante situazioni. Questo per quello che riguarda l'Ascoli, andiamo nel girone B del campionato di Serie C, diciottesimo turno, questo il programma si comincia domani alle 16.15 con la prima marchigiana in campo, la fermana che ospita la Juventus Next Gen. Quindi Virtus Entella, Rimini e Pineto Spall domenica. Spicca soprattutto il big match del Delconero alle 20.45 tra Ancona e Pescara. Match casalingo per la Vispesaro alle 16.15 contro il Sestri in trasferta all'Areca Natesa alle 18.30 a Gubbio. E poi le altre partite Cesena-Torres, Olbia, Pontedera, Carrarese-Lucchese lunedì il posticipo tra Arezzo e Perugia. Nel girone F del campionato di Serie D, questi sono gli impegni della sedicesima giornata, Sambi in trasferta nella capitale contro il Roma City, il Fano in casa contro l'Avezzano, l'Atletico Ascoli in casa contro il San Nicolò e poi il Fossombrone che sarà ospite del Sora, la Vigor Senigallia che riceve il Riccione. Domani altre due anticipi, Matese-Real-Monterotondo, Tivoli-Vasto-Girardi, domenica a completare il quadro Campobasso-Chieti e l'Aquila contro Termoli. In eccellenza si giocherà la quindicesima giornata di campionato, tutte le gare di domenica alle 14.30, Castelfidardo-Atletico-Azzurracolli, Chiesa Nuova-Che Sport, Montecchio-Gallo, Iesi-Civitanovese, Montefano-Urbania, Monturano-Campiglione-Maceratese-Osimana-Urbino e San Giustese-Montegranaro alle 15.00 di scena Tolentino contro il Montegiorgio. Mettiamo da parte il calcio, apriamo la pagina del basket, intanto per raccontare la storia di Achille Polonara, il cestista anconetano in forza alla Virtus Bologna, campione della nazionale italiana, che si è messo alle spalle il periodo più difficile, quello della lotta al tumore. Sentiamo. È stato un momento naturalmente difficile per me perché non mi ero mai neanche operato a niente, per fortuna, in 32 anni, quindi è stata una bella botta, però è chiaro che non venivo da un buon momento cestistico pre-intervento, quindi lo prendo come un reset, anche perché comunque sto in una squadra nuova, sto indossando dei colori nuovi, quindi voglio che sia un rinizio della mia seconda parte di carriera. Tutti in piedi per il ritorno in campo di Achille Polonara. Una vita nuova, non diversa, ma nuova, inteso come un secondo inizio da cestista. Achille Polonara, 32 anni, campione della Virtus Bologna e della nazionale di basket, si è messo alle spalle il periodo più duro. Quel tumore al testicolo scoperto per caso, dopo un controllo antidoping. L'operazione Lechemio, i capelli che cadono, la voglia di tornare, immerso il gigante di Ancona, nell'affetto di mogli e figli, amici e appassionati. Ho avuto la vicinanza veramente da, naturalmente, dalla mia famiglia, dai miei amici, ma anche da gente che non conosco, da persone che veramente non avrei mai pensato che mi avessero scritto o chiamato, quindi sono stato molto contento. Il Poz l'ha preso molto male perché poi lui è uno molto emotivo, quindi quando mi ha chiamato era veramente a pezzi. Sabato, Bologna ricorderà Sinisa Mihaelovic a un anno dalla scomparsa. Per Achille, un esempio. Ho seguito le sue interviste, le sue dichiarazioni quando non stava molto bene e mi ha subito impressionato questa comunque sua forza di volontà di andare avanti e di cercare di lottare anche nei momenti difficili. Può essere anche Polonara un ispiratore? Ma questo non lo so, penso ho ricevuto parecchi messaggi di gente che ha preso questa mia vicenda come uno stimolo in più, un esempio e tutto. Quindi penso che per alcuni sicuramente possa essere d'esempio, anche per me lo è stato sicuramente perché è una cosa che comunque ti fa apprezzare anche le semplici cose. È da semplice andare in palestra, quando prima dici che palle c'è allenamento, adesso invece vai in palestra con un'altra mentalità e un altro stimolo. Con la forza di volontà penso che in queste situazioni sia fondamentale l'aspetto mentale. Intanto la palestra, il parquet, il gioco, i tifosi, gli avversari, la realtà che torna alla quotidianità di nuovo nei pensieri. Piano piano, giorno dopo giorno mi sento sempre meglio, non sono passati neanche due mesi dal mio rientro in campo, quindi ho accelerato un pochino i tempi, però se l'ho fatto è perché mi sento bene. Naturalmente non mi sento al 100%, però mi sento di dare un contributo importante alla squadra. Grazie a tutti. Lube che torna in campo dopo la vittoria in Belgio di Maseic che è servita per confermare il primo posto nel girone iniziale nella Pool e della Champions. Adesso Lube che torna a pensare al campionato. Domenica alle 16 sarà di scena al Palabanka Sport contro la Gas Sales. Blue Energy di Piacenza decimo faccia a faccia della storia tra i due club con il pass per la del Monte Coppa Italia già in tasca. Gli uomini di Blengini cercano punti per provare a entrare tra le quattro teste di serie che giocheranno in casa la sfida secca dei quarti. I cucinieri si sono imposti in 8 dei 9 precedenti concedendo 9 set sui 37 in totale. 813 punti realizzati contro la formazione di Piacenza per la Lube. Nel campionato di serie A femminile la Megabox domani giocherà al Palamegabox alle 20.30 con diretta su Rai Sport contro la formazione di Casal Maggiore. Un bel test per la squadra di pistola che nel frattempo ha abbracciato anche la palleggiatrice russa Victoria Kopzar classe 84 proveniente dalle campionesse di Francia del Volero Le Canet. Il suo arrivo è l'ultimo arrivo nel mercato della Megabox Vallefoglia. Noi siamo in chiusura. Vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di Etv Marche. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.